il terreno ah il terreno ah ma hai sento venuto su di Angelo? si si? stai guardando che ho fatto? che c***o sei un bastardo perché sei da fuoco eccolo si o forse cosa devo combinare? un battuglia noccio forse il tremazzo adesso mi abbiamo fatto 750 metri inizio della nuova salita oh è come i gatti quando sono a casa loro eh non si sposta un po' nella m***a un po' fuori non è che puoi tanto decidere dove passare ah va non si vede il tenno il tenno è da al gara si vede da cima oro o da cima... orca adesso sono i gai ok la valle chiama e io rispondo di nuovo oppure qualcuno che si mi ha le tracce delle bici perchè lo fa... forza ciorma pendagli da forca non sono il capitano e ora adesso si prosegue dopo la bocca saval decidiamo se fare il pernici e andare giù al lago quasi tutta vi farò morire dice gavazzo vi farò morire non ci sono non ci sono lezie che non ci sono anche la gente che non ci sono nessuna non ci sono pensi